Paolo da Milano ci scrive perché un suo vicino utilizza il corridoio che porta alle cantine come deposito per alcuni materiali, limitando il passaggio agli altri condomini. Cosa può fare per tutelare il suo diritto ad un passaggio libero? Ascoltiamo l'Avvocato Bortolotti. Rispondiamo in questa occasione alle numerose domande e istanze giunte da ascoltatori che raccontano di come spesso e volentieri nel loro condominio ci sono dei condomini, dei proprietari che fanno un uso scorretto, fuori luogo e smodato di quelle che sono le parti comuni condominiali. Quindi ci concentriamo in questa occasione su questo particolare argomento, l'uso delle parti comuni, sempre con un taglio sintetico e pratico. Quindi in primo luogo vediamo di comprendere che cosa sono le parti comuni. Le parti comuni in un condominio sono quelle indicate in maniera esemplificativa dall'articolo 1117 del Codice Civile che grazie alla riforma del 2012 ha avuto un taglio più pratico e più comodo per la comprensione di tutti nell'indicare che le parti comuni del condominio sono tutte quelle parti che risultano essere necessarie all'uso comune dei condomini. Da lì in avanti l'articolo fa un elenco non esaustivo ma esemplificativo di quelli che sono queste parti indicando il portone, le fondamenta, i pilastri portanti, i cortili, i parcheggi, dando così modo ai condomini eventualmente di individuare anche altri beni che essendo destinati all'uso comune di tutti possono essere considerati parte comune. Ricordiamo alcuni principi fondamentali, cioè che in primo luogo l'uso delle parti comuni è assolutamente il medesimo in capo a tutti i proprietari, quindi ogni condomino ha lo stesso diritto degli altri di fare un pari uso delle parti comuni. Ci sono due sostanziali limiti che la legge pone e sui quali ci dobbiamo concentrare, ossia ciascun proprietario può utilizzare una parte comune senza alterarne la destinazione e senza impedire che un pari uso lo possano fare gli altri. Vediamo che cosa vuol dire nello specifico. Non alterare la destinazione d'uso di una parte comune, per capirci molto praticamente, vuol dire che se il cortile del mio condominio è adibito al passaggio o anche al passeggio, quindi è una zona verde, è una zona che ha una destinazione di un certo tipo, esclusiva, non può essere trasformato in parcheggio o in deposito per le esigenze di un condomino o di due condomini. Questo vuol dire rispettare la destinazione d'uso di una parte comune. Per quanto riguarda invece l'obbligo di permettere che tutti gli altri condomini ne facciano un pari uso, possiamo pensare ad esempio all'ascensore a un montacarichi che può servire magari un'unità commerciale che fa parte del condominio, l'unità commerciale la può utilizzare per far affluire i propri clienti nello spazio commerciale, ma certo non può impedire che ne facciano pari uso i condomini che devono raggiungere la loro abitazione. Quindi in poche parole noi possiamo dire che la destinazione della parte comune viene rispettata, del bene comune viene rispettata quando nonostante l'uso che ne stia facendo un singolo condomino, il resto del bene comune rimane adeguato per soddisfare le pari esigenze degli altri condomini. Anche in questo caso, e proprio questo è il motivo delle tante richieste che ci giungono, è chiaro che la teoria a volte non è uguale alla pratica di tutti i giorni. Quindi se abbiamo dei comproprietari che non rispettano questa disciplina, queste regole, che cosa possiamo fare? Possiamo rivolgerci immediatamente all'amministratore che dovrà diffidare questi condomini che utilizzano le parti comuni in modo scorretto. Se non dovesse cessare il comportamento, l'amministratore dovrà convocare un'assemblea che dovrà deliberare il divieto vero e proprio per il condomino di porre in essere quell'atteggiamento. Nel caso in cui, come a volte purtroppo spesso succede, il proprietario insista nell'utilizzare in maniera scorretta e fuori luogo il bene comune, alterando la destinazione, ripetiamo, e non permettendo un pari uso agli altri proprietari, rimarrà esclusivamente la soluzione giudiziale. In questo caso abbastanza semplice rispetto ad alcuni argomenti che abbiamo trattato in precedenza, perché in genere questi atteggiamenti sono, diciamo così, tenuti anche alla luce del sole, sono abbastanza palesi e quindi sarà abbastanza semplice per gli altri condomini documentare questo atteggiamento e chiedere al giudice che venga adottata la relativa sanzione. Sempre e comunque naturalmente con l'indispensabile assistenza di un legale trattandosi di materia molto tecnica. Francesco da Bergamo ha ricevuto una convocazione come testimone dal Tribunale, ma non sa perché e cosa deve fare. Avvocato Pollastro cosa ci dice? Buongiorno, interessante questa domanda che arriva da Francesco. Francesco ha ricevuto una convocazione in Tribunale per fare il testimone. Allora, Francesco ci fa alcune domande e ci chiede, ma primo, ci devo andare o non ci devo andare a fare il testimone e dopodiché come devo comportarmi. La domanda in particolare che ha Francesco è, devo prendere un avvocato anch'io? Vediamoli fare chiarezza. Innanzitutto fare la testimonianza cosa vuol dire? Vuol dire che in un processo una persona è chiamata a riferire fatti, cose che ha visto, cose di cui è a diretta conoscenza, ma fatti, non giudizi. Il testimone non dice se ha ragione uno o ha ragione l'altro. Questo è compito del magistrato, del giudice. Il testimone deve esclusivamente riferire su fatti e consentire al giudice di accertare come si sono svolti dei fatti. Ed è una vicenda essere testimoni che può succedere, perché può succedere in un rapporto di lavoro, che il collega chiami a fare o meno la testimonianza, il datore di lavoro chiami o meno a rendere una testimonianza, ma può anche essere semplicemente che il cittadino assista a un incidente stradale e possa essere chiamato a riferire cosa ha visto, non se tizio aveva ragione o aveva torto, ribadisco. Prima domanda, è obbligatorio che chi chiama, chi fa una causa, chi chiama un testimone avvisi e chieda il permesso del testimone? No, assolutamente. Se vogliamo può essere di buona educazione che uno avvisi la persona, guarda che ti indico come possibile testimone, ma non è assolutamente obbligatorio. il cittadino può fare nell'ambito della sua causa una richiesta di individuare dei testimoni, di sentire, o meglio come dicono i giuristi, di escutere dei testimoni davanti al giudice senza necessità che questi testimoni, come dire, siano preavvertiti o abbiano dato una preventiva disponibilità. Attenzione, il testimone non è un testimone dell'uno o dell'altra parte, è un testimone nell'interesse della verità, della giustizia. Secondo, posso rifiutarmi? Anche qui, no. Essere testimoni è un obbligo cinico. Uno deve andare e il rifiuto della testimonianza può essere addirittura sanzionato dal magistrato sul piano penale, per cui se uno per avventura, dopo essere stato avvisato, attenzione, l'avviso deve arrivare almeno sette giorni prima della data di udienza, ma se uno una volta avvisato per avventura, quel giorno non può perché ha impegni, perché non sta bene, cose del genere, ma è buona cosa avvisare, informare l'avvocato che ha mandato la parte, che ha mandato la citazione o eventualmente qualcuno fa direttamente alla cancelleria del giudice, che quel giorno il testimone è impossibilitato da andare. Non basta una telefonata, mandare una comunicazione, al limite anche soltanto un fax, una raccomandata, ma qualcosa in cui il testimone dica, attenzione, io quel giorno non posso. Seconda cosa importante, il testimone è chiamato a dire la verità e a non dire il falso, su questo lo sappiamo tutti, ma tra dire il vero e dire il falso c'è anche di mezzo la cosiddetta reticenza, cioè il testimone deve dichiarare le cose che sa, non può trattenersene, attenzione, perché il dire il falso o la reticenza possono essere valutati dal punto che sono reati e possono comportare reazioni penalite. Quindi obbligo di andare, obbligo di eventualmente come dire il diritto della persona di giustificarsi, nel caso in cui non possa, ma probabilmente verrà risentito. Attenzione, io invito una cosa, io ho notato che molte volte i testimoni si trovano di fronte a un fenomeno personale che io chiamo quello dello studente, di fronte alla domanda del giudice su una cosa o quant'altra, il testimone se una cosa non la sa o non la ricorda, devi dire non la so o non la ricordo, non devi tirare a indovinare o arrampicarsi immaginando che possa essere andato, il testimone non devi immaginare, perché poi succedono disastri. Il testimone non è lo studente che alla fine della testimonianza c'è un voto, bello o brutto, il testimone riferisce cose che sa o che ricorda e che ricorda, non deve assolutamente tirare a indovinare, non deve assolutamente mai dire al magistrato immaginare che possa essere andato bene in un fatto, in un modo o nell'altro. Se una cosa non la sa, dice questa cosa io non la so, se una cosa non la ricorda dice non mi ricordo, non possono mai andare a creare un scenario in cui il testimone, come dire, tira a indovinare, perché questo può creare veramente disastri, sia per la parte sia per lo stesso testimone. Grazie. Anche oggi siamo giunti alla fine di questa puntata. Vi ricordiamo la nostra mail, avvocati rispondono, chioccialalcomizio.it. Noi ci vediamo martedì prossimo. Grazie. Grazie.